Devo parlare con l'ingegner Martelli, solda della polizia. Ingegnero Martella, uscita, in casa sua moglio. Potete parlare con sua moglio? Anche tu, Zambia! No, io non ho Zambia, io ho Roma. Posso parlare con sua signora? Un momento. Per favore, diremi dove fa macchia? Non ti capisco, adesso so io che non ti capisco. Non lo so dove sta la farmacia, non lo so. No, 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 no. Prego, dove sta restaziona? Non lo so, può darsi sta avvicinata alla farmacia. Lascia proprio i cartellini, va, t'hanno fatto i cartellini. Allora, vediamo. L'ingegnere sta riposando, niente. Signora, il cane è legato come piace a lei. Signora, l'uccello ha fame. Cosa devo dare da mangiare all'uccello? Tu questo? Non fa vedere al padrono. Perché te fa un culo come in trono. Come? Vabbè, come in Milano. Senti, io devo parlare a casa, signora. Che sa.